E voi chi siete? Edmond Rostan. Mai sentito nominare. Monsieur Coquelin! Che diavolo c'è? Allora, commedia o tragedia? Tragedia. Commedia. Il titolo? Cyrano de Bergerac. Un poeta con un enorme naso. Un enorme naso? Iniziamo a provare domani mattina. Domani? Senza neanche un copione. Ah, giusto. Scrivetelo. Edmond, nessuno ti conosce e Coquelin ti commissiona una pièce. Champagne? Ho una buona notizia. Sono innamorato alla follia. Jeanne! Un bacio. Parla lei in rima. Devi farla sognare. E che le devo dire? Jeanne! Ah, siete voi. Se le mie parole sono esitanti. Se le mie parole sono esitanti. È perché è notte. È perché è notte. E questo che diavolo c'entra? Ora ho una trama. Christian? Non ci sa fare con le donne. E allora Cyrano si offre di aiutarlo. La vorremmo più scuccia. Più... Più... Vi prevengo, mio caro paladino, che giusto in fin della licenza, io tacco. Io tocco. Vi dico con la massima umiltà che stiamo per creare un capolavoro. Come ogni volta. Ecco l'autore. Edmond Rostand. Un genio. Come ogni volta. Edmond, hai incontrato qualcuno. Sì. Ho incontrato l'ispirazione. Madame, Monsieur, al lavoro. Debuttiamo tra una settimana. Mai visto nulla del genere. Quest'opera ha qualcosa di speciale. È come se contenesse tutto ciò che io non ho. Il coraggio, l'ironia, l'eroismo. L'amore. L'amore. Voglio un bacio. Chi dei due? È... È ridicolo? Ma no, idiota, sei magnifico. Ma dieci minuti in scena! 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 Grazie a tutti.